Un'altra amica in linea, pronto? Ciao Enzo, Gianfranco da Bari. Ciao Gianfranco. Saluto a tutti gli altri ospiti. Ciao. Grazie. Ciao. E niente, sono d'accordo di non dramatizzare questa sconfitta con la Lazio, però io volevo soltanto sottolineare il fatto che la squadra, credo, abbia proprio nel cervello un blocco, nel senso che abbia paura proprio di affrontare le partite che prima per lei erano facili. Quindi, ad esempio la Lazio, essendo una squadra a questo punto, una squadra di alta classifica, la squadra, Bari prima l'affrontava con un piglio diverso, quasi strafottendosene di chi aveva di fronte. E meno spontaneo. Non accade, questa non accade più. Atteggiamento che secondo te va cambiato. Un'ultima cosa, semplicemente, volevo dire, secondo me, se torna a sinistra Parisi è meglio. Grazie, grazie per il tuo intervento. Che vuoi dire? No, io voglio, anche gli stessi giocatori, siamo stati sfortunati, parlano di fortuna, però di sfortuna, cioè, anche loro, ma è chiaro, la fortuna, a parte che diciamo psicologicamente è importante, la psicologica nel giocatore. Però, diciamo, l'atteggiamento che è stato usato, io ho visto, ho seguito la partita, effettivamente, insomma, è giustamente come dice il dottor Fisini, che è una squadra piatta, è proprio un sistema che comunque conoscono tutte le squadre che vengono ad affrontare il Bari, per cui, se non cambia qualcosa il nostro mister, purtroppo... Potremmo andare in conto a qualche difficoltà. Qualche grossa difficoltà. C'è Parisi, subito dopo Nicola IV ci dirà chi vincerebbe il campione. Come no? Parisi. L'Inter. L'avversario, dal primo minuto, si è chiuso nella propria metà campo in undici. Per noi non è assolutamente facile così. Nonostante tutto, abbiamo avuto le nostre occasioni, purtroppo non le abbiamo sfruttate. Loro, invece, due mezzi tiri hanno fatto due gol. In questo momento c'è solo da stringere i denti, lavorare come prima, sereni, perché se pensiamo alle cose negative andiamo sempre peggio, perciò lavorare basta. Sì, è una crisi di più di risultati, perché la squadra, nonostante tutto, comunque cerca sempre di imporre il gioco, senza sempre di fare la sua parte. E sappiamo benissimo che nel nostro gioco, quando trovi squadre del genere che non ti permettono di dare degli spazi, se non si chiudono dietro, non è facile. E' un momento in cui bisogna essere sereni e lucidi. Se siamo distruttivi sarà tutto un calare, perciò è tutto a scapito nostro. Dobbiamo stare sereni tutti, rimanere dalla stessa parte e pensare sempre a positivo. Giuste le parole di Parisi. Nicola, ti dice lo Scudetto. Lo Scudetto quest'anno è un gioco un po' particolare, perché lo Scudetto si giocherà quasi alla fine del campionato, come è successo quest'anno tra la Roma e l'Inter, si è giocata l'ultima, io lo chiamo spareggio quello. Io quest'anno vedo che le finalistiche, chi si contenderà lo Scudetto, può essere tra Juve e Milan e le due squadre in difficoltà di Serie B sono Bari e Lecce, percato che non avremo l'anno prossimo. Insisto sì, sono mie previsioni, non c'è una certezza, sono previsioni, io mi auguro che sia l'unica volta che sbaglio. Juventus e Milan, chi vince per la fine? Eh no, tra Juventus e Milan non posso dire, c'è ballottati. Da Juventus e Milan vince l'Inter, dai. No, 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 ormai l'Inter ha chiuso il suo ciclo. Grazie a te per avermi ospitato. Grazie a Giacomo Inizio e il bocca al lupo per il Bari. Va bene, ci voleva questo finale. Comunque Matarrese lo sa il motivo. Va bene, a domani, ciao. Ciao. Grazie a tutti.